E Virginia Salomone, di 24 anni, fa parte dell'Associazione Nuova Accademia Pugilistica Panettieri a Matera. Virginia, ma il pugilato è uno sport dove non si abbassa mai la guardia? Certo, il pugilato ti insegna molto anche, ti fortifica molto il carattere dal punto di vista della vita, così come deve essere. Luciano mi è stato molto vicino, sia nei momenti bassi che nei momenti alti, ha creduto molto in me. E questa è stata la forza che mi ha aiutato ad andare avanti. Ma quante altre donne ci sono o altre tre? Ci sono altre tre ragazze. E come mai ti sei avvicinata a questo sport? Ho iniziato così per gioco, provando, e poi mi sono accanita sempre di più. E ho voluto poi intraprendere la strada per arrivare da qualche parte. Senti, che cosa auguri alle altre donne? Per far sì che si avvicinino a questo sport? Vabbè, penso che ognuno di noi sa cosa vuole veramente. Quindi se una persona si rende conto di quello che prova, faranno loro stesse ad avvicinarsi e a crederci. Senti, non hai paura che questo sport ti rovini il viso? Senti, inizialmente sì, quella era la mia paura, anche per le persone che mi dicevano il naso, gli occhi, quello, quell'altro. Però è una cosa che va oltre tutto. Quindi... Grazie. Grazie.